Ciao a tutti ragazzi, qui oggi è Snachino e siamo in compagnia di Masarone Ehi, si sposta sempre la ciolla Masarone In compagnia di Pulci Di Ferefar Bella E di un ospite speciale che è la prima volta che lo vedete sul canale Probabilmente nei prossimi giorni andrò anche io sul suo Alec Ciao a tutti ragazzi E oggi siamo Vabbè fa serio E stiamo giocando una nuova modalità E quindi io devo bannare chi non ci devono piccare Chi devo bannare non lo so Eeeh Yorick Yorick è vero, si Yorick Stato lo cucchi te Yorick Io non lo so TEMASIA 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 Ti mette in cima Ma può piccare solo campioni che io c'ho Eeeh No, in teoria li può piccare tutti E vai No, lasciami Finderstick Lasciami Finderstick Ah, te l'ha toccata Beh no, può cambiarla Ah, ok Può cambiarla No, vuole fare la cosa che stavamo facendo noi prima No, raga C'è piccano 5 AD Carry No Allora voi piccategli Boyer negro Piccategli come si dice Vediamo un po' Eeeh Qualcuno di stupido e ignorante Che cazzicchie potevo dire Galio 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 Ma Galio guarda Ah beh, Galio in effetti se stiamo 5 AD Carry è buono Eh, ma che c'è la passiva che c'è la passiva E poi No, 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 no Fermate No, 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 no shot E chi le prendo? Eeeh Eeeh Cazzo Vai, mi sforzo un po' bene Ci volta, ci volta Boh, adesso tocca a me perché Noi da chi vecchiavo Ho paura, ma Ecco Eccolo Eccoli 5 AD Carry Ragazzi Se piccano, se piccano Twitch Vado in giungola con Twitch, dai Oddio Mi prego Perché gli hai dato Mi sforzo che potevo usarla io Che palle di persona Pensiamo tanto a un campionato da loro Varus Guarda che c'abbiamo una wombo combo Non indifferente Ma io qui non la so usare Vabbè ma lascia verde qui E mo che gli piccate Mo io i piccole blank che voglio No ci sciottano Aspetta aspetta che gli do Eh Eh Qualcuno che c'è difficile da usare Qualcuno che muoia subito Calista No perché ci scappa Ci scappa Eh vabbè però se sarà beccale che peggio Se mi hai dato i 3 per me va bene Calista Oh non mi sento E chi mi prendo io Non lo so Eh Via Via Dio Uno inutile Tipo vabbè una Singhead insomma Adrox Vabbè ma gli abbiamo dato una comp decente comunque Noi siamo nella merda Loro no O nemmeno a Dici avessero piccato Crapes poi Vabbè io vado top con sta stronza Sì con qui non è top Sì direi proprio così Io non l'ho mai Dai piccatemi Twitch Crapes No Crapes no Crapes no Dammi Jinx il negro Allora raga Datemi qualcos'altro Ashi no Io non la posso fare la giungla con Ashi Che vuoi? Ci vai in giungla Andiamo in Ah no cazzo No Draven no Dammi Gravis Dammi Gravis Aspetta Gravis Eh no moderni Boost di battaglia Perciò 5 RP Tutta la tua squadra riceverà Aspetti sbloccati Tutte le skin sbloccate Vabbè Ashi vuono a support Sì Io volendo sì Beh io quindi cosa faccio Davanti per la mia strada Ah quindi io supporto Sì vabbè vabbè Per me va bene Tanto Madonna ragazzi Ci vuole qualcuno che si Ashi fatti AP per piacere Varus AP Varus AP Varus vai mid e fatti AP Varus vai mid e fatti AP Non sto scherzando Shotti Ok vado mid e faccio AP Ok Shotti tantissimo O metti il barrier O metti qualcosa Allora Draven e Ashenbot Dai Allora aspetta Sì sì assolutamente Dove andavo io scusi Mid Madonna ragazzi E' fatta Abbiamo già vinto Abbiamo già vinto Io comunque c'ho paura Ma perché io la sento persa Vabbè ma E' l'unico che teoricamente Può fa qualcosa Forse pure Queen Però Queen è proprio zero Eh non ho mandato Galio mid Quello se farei Quella passiva Mi dice Faccio danno io Vabbè Puoi manda Ma sarò nei mid E tu vai top A sto punto Ma quasi quasi Vado a vaffanculo Vado a di Eh si va Ma guarda che in generale Fai malissimo Mi sa che qualcos'altro Pure scala Perché me ne so trovato Una volta Uno contro In una custom E shottava di tutto Quindi non lo so Ah tra l'altro Adesso ti hanno pure Buffato l'ulti E' più cicciotta adesso Sì lo so C'ha più range C'è il più largo Eh ce l'ha più largo Eh 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 Alec Attenzione a cosa dici Quindi in bot saranno Calista e Miss Force Oh l'unico Guarda anche Oh raga Dobbiamo andare A ganca Cioè dobbiamo invadere Sta cosa Sta Evelyn Va bene Va benissimo Andiamo andiamo Sono già lì guarda Io mi domanda Com'è che Si usareci support Eh eh W Q W Q No W attacco basso Slow e slow Tu basta che slow Poi quello che Succede dopo Primo item Frozen Mallet Vai Frozen Mallet What the fuck Oh Fere Ma Un computer nuovo No O sennò Anche potenziarlo Con un criceto in più Insomma Io è un po' bruttino Magari quello che c'è adesso Si è stancato Che ne sai Ah ecco guarda Guarda ho preso un po' di velocità Ah E' che Stavo finendo il carbone Ah 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 metti i criceti col carbone Eh certo K Senti a carbone Alla va da pie Dai raga invadiamo il blu Vai 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 Ma siamo sicuri Ma vai vai Che te frega Vai sono fuori Sono fuori Abbiamo già vinto No Magari non gli farò niente Abbiamo già vinto Non ti fare la mascherina per nessuno Ma la mia W ha 16 secondi Con down Altissima Ma chi te l'ha detto Perché imbrogli Oh Ken dove sei andato Dobbiamo andare qua Ah scusa Mamma mia non sei proprio invadio Ah l'ulti fa danno magico E la W W e ulti fanno danno magico Vedi Adesso che l'ulti più ci ciotta La W è sempre attiva Quindi LON Ma come intenzione di leggerla Non lo so Ricordi che la W esplode con la W C'ha bisogno di un hardbull assoluto Devo invadere un hardbull Dona raga Siete pronti? Namo Quando vuoi Namo Tataratà 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 Eh Non c'è nessuno Noo Caricando Noo Coglione Non preme niente Non preme niente Ok ok Che si fa? Siamo al blu Sì 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 Andiamo dopo Andiamo dopo Andiamo dopo Oh famoglielo fa E poi è Namo Vai Io attaccato questo Ogni dato Ogni dato Vai vai Fatto 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 Kill Kill Muori Muori No Se il culo ad Ash Maledetta Era morto Namo Namo Viamo Viamo il grompo Viamo il grompo Ma se non ne usi il tip in top Usi il tip in top Che KS E Namo Non morì Ma mi sa Oh cazzo Sattano il blu Cazzo L'ho sbagliato L'ho sbagliato L'ho sbagliato Per 7 di vita E non ha lo smite Si ha smitato Cazzo Se sta recupera vita Sono faccavolate Qui si stanno a poccare troppo Pantagallista Preso Guardato Quella squadra Atrox C'ha pochissima Guarda questi Quanta vita C'hanno Atrox Ha iniziato Di Andate un po' a cagare No Aiuto Mamma mia Ha shottata No no Via 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 da qua Via da qua Merda Madonna raga Se ci vuoi morire Va Vattene via Ale Che cazzo Che cazzo Che cazzo Mi ha iniziato Che cazzo Dovevo morire Almeno ho tolato una kill Non ci ho capito niente Ragà Che cazzo Abbiamo fatto 4 kill noi Ma di che starto Di che starto Ma che ne so Più pozioni A caso Ma adesso farmi un po' tu Sei arrivato Io qui un'altra neve De d'ora Ho due anelli De d'ora Capito Fear Spera Si 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 è arrivato Sotto torre farmato Altrimenti Aspetta Ma ragazzi ho già stato Farmato 5.000 Attenzione E' morto Ah beh lo posso dire Che è stato ward Si 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 Vado back raga Io ho fatto una kill Ho preso un assist Mi ha fatto un kill e due assist Non pushare Non pushare Se no dopo che sei quasi spaventa Mi mettono paura Occhio sei fuori dal cespuglio Ma tu sei già il 2 Ragazzi ho cambiato il gel drink Ho preso quello blu Tranquilli Ma qualcun tempo sei già Ho salito del culo Maroni il 3 Mamma mia che danno che gli fai Alec Come fai a fa quel danno Faccio 0 danno Oh intanto guardate Masarone Quanto sta pushando Maronne Vabbè quell'altro ha startato di salto Io max la doppia bulla Cina è l'unico danno magico Vai vai Guardi che esplode con le skill Hai un po' cagato il cazzo Ah Masarone guarda che ho comprato qua Toh pink Ho perso il trade Oh sto a gank a mid Oh addirittura Te stai a spaventare Non ci avrai troppo Ok non la ganko più No Oh mazza ne faccio niente Con la quaglia Ragazzi ho invadito Oh ho invaso Evelyn L'ho così uccisa Lolle Masarone 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 Occhio 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 Sta al venigario Sempre guai Ma comunque il calista fa tanta bua aria non mi ricordo che ho guardato no lo vuole solo uomo ma tu non hai liten da su po' il sesso vado a prendere il red lo vuoi tu ma sa come non hai liten da su po' non hai preso il pugnale ruba incantesimo eh no non serve l'ex pugnale quello giallo almeno ma quella la moneta ma Masarone che fila fatto raga ah ma io sono mutato da un quarto dopo lol eh ma perchè mi ero soffiato il naso e non volevo far rumori molesti durante la registrazione parla subito eh quanto sono bravo eh male che c'è Masarone guarda perché quella missport è arrivata così cattiva verso questo io ho perso Atrox ragazzi non so da più boh si è spaventato tranquillo guarda sul comodino cazzo cazzo Masarone 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 eh mamma non ce la fai non ce la fai oh si eh c'è Atrox attaccala 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 madonna l'avessi uccisa ma lì sei stato un brutto pick per quanto mi sa eh vaffanculo devo prende questo proprio rappresentato no 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 vai te tu ci porto la sonda va vai uccidrui 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 ah e pensavo avesse più vinto eh no attento muovera te salto in testa va va pancina ragazzi a botta come sta andando male no no mi fanno tanta buva beh adesso c'ho anche un blu cazzo abili io so una bomba corre con l'alto. tu la devi smettere in un tira e provacce cos'è che fa la mia ulti non me lo ricordo mai ti trasformi in un uccello e cosa fa di danno effettivo poi ti cambia le spell eee se ti ritrasformi in umano fai un danno a voi lanci i coltellini in aria lì per ricadere cosa molto pericolosa da non far fare i bambini in casa cazzo ho visto quanto male fa eh ho usato il flash comunque ma luce il vantaggio che c'ha rispetto a un midliner che spamma meno mana ti ho pushato? no no oh ragazzi c'è il blu loro che famo? io lo invademo ma è che il drago invece siamo tutti a dichiaria ma è vero dovevo coprire il drago vabbè aspetta un attimo sto a prendere il blu lo suo occhio che gallo missa eh sta a venire verso di te ho visto e raga datemi una mano allora cazzo son morto nooo eh anno perceived no lascia verdi dai li uccidete li uccidete li uccidete vai vai continuate continuate no vabbè come fate? mi stanni lol attrax mi voleva uccidere e sono sopravvissuto con lui arrivano, arrivano, arrivano non hanno, non hanno il coso loro ma ammassa quanto arriva driven il problema è che Kalissa mi leva tanto eh ma tu pure la sciotti eh eh lo so che la sciotti attenti ragazzi attenti madonna ragazzi andatevene andatevene, vittatevi lo volete io c'ho il TP eh lo volete dire non mi fretta però no non lo sanno ma da che gli sta con un splodo volevo flashegna dalla eh no vorda mettere qua dietro grazie il miatrox ti son mancato ah ma no, ah si fa danno anche dai ragazzi non vince, hai già vinto sto game voi nemmeno lo sapete manca cacchio, ma che parto di Rabadon boh, c'ho questo, ti è vabbè, di Rabadon, di Rabadon no, che pezzo d'80 potere maggio abbassa con la voce da canlina oh merda quanto m'ha tolto attacchi basilari e finchiamo 22 più 28 d'anima mano buono buono l'attacco basso occhio, occhio, mi saremo a cosa per blu eh merda, stavo puntando l'attore dimmelo un po' prima comunque caccia roma pure cioè Galio non si permette di roma eh, lo vedi un po' prima eh, perchè stai avrei volato non c'ho più fatto gas ok, adesso ti risalgo serverebbe guardare il drop perchè secondo me se lo fanno sì, amico mid lane vaci a mettere una war senza morirci vai a non passare da river che ti uccida ok, l'hanno fatto, l'hanno fatto l'hanno fatto, mannaggia eh, circa 10 e mezzo ok nooo, merda flash via, flash via, flash via no, Sven, c'è bisogno per flash ah, ok mi è ferramida? regoliamo il conte quel migno no mio farmale una notte quest'attro che sta preso tanto di quelle pizze che se le ricorderà per i prossimi dieci anni madonna che le pizze eh, ogni volta che vado contro ci muovra quasi quindi scappa missa occhio ne manca anche qua giusto che... lo vede nuovo già sta venito, occhio che... c'è il gaglio che... che roba c'è il gaglio roaming eh, un rumeno? no parte vista dentro c'è spuglio che c'è il gaglio proprio perchè io gli ho fatto un ragazzo, tanti degli addici c'erano proprio calissi della teglia no mi sono andato bene, non è buono, non è buono a parte ma... eruna nemmo faccio, ma da veloce l'attacco nooo, non penso, oh madonna mazza, oh, su... che roba lo se stanno muoio eh, ma sei a p, ti ricordo eh, vabbè, ho velocità d'attacco, io calcola tutto attacco base devo far danno, eh fatti come kyle, non è bello non è bello vedrai, diventa una macchina da rueda ok, sta qua, caglio, eh bella ho fatto un trade, tu hai preso il carretto e io mi sono preso la kill griff, se stai nei paraggi, eh, tocca anche qualcuno mi va per ammitte e dovrei vallare che dobbia a ward eh, stanno a pia la botta no, l'atrox manca buono, abbiamo preso la botta oddio, se ne callo... oh, oh no, ho sbagliato, oh, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua chiudila, chiudila vai, 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 vai eh, diventata andata in stealth eccola è chi sopra lui, è chi sopra lui qua, qua io intanto ho ucciso, io intanto ho ucciso atrox no, vabbè, ma ho sbagliato, ma la c***o ma tu fa, mamma, che c***o, segnatata, c'è uno spudo, sta qua eh, io non ho ma... eh, non la prendiamo più eh, vabbè, dove che vavo? si sarà messa qui eh, ma la ricolla qui la tua squadra sta via la tua squadra sta via dai, cavolo, non ce credo, che c***o, che c***o tranquillo, ti vendicheremo io spero di non morirci dai golem aspetta, è mouvi, una pink mette in questo pacchetto ma perché sei morto? che t'ha fatto? a me? eh kuku 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 ah se me sta a piangere Eveline, averveline style kuku kuku allora vediamo un po' oh, Matt, me lo stai vedendo è quello in mid non faccio d'animo si sta andando eh manca la botta manca la botta guarda come picciona bene ma no ma gli dovevi saltarvi mentre è stata piccione vai 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 guarda che culo fatalità ma dò sta botta ragazzi ma che danni fanno eh l'ho detto oh di è qua è andato ad aiutare il mini per piacere ok poi faccio saltare di prima che ero in forma uccello e in forma uccello c'è gli altri spelt ho detto ah eh non me ne ho d'accordo versione piscina è arrivato è arrivato sta arrivando altro che si sta facendo il giorgio aspettando da metà dove passano di sicuro dove è giorgio eccolo lì è morto ah giorgio stop è morto io toki merda merda quanto leva sto arriva pure io sto arriva pure io ottimo beve ah questa compare all'improvviso sempre in faccia ma la ritrovo madonna con quanta cattiveria sti flash non era chiusa per niente pure prima era ignatato era morto gavi ha flashato per piacere per piacere per piacere la prossima volta non me li prende perchè sto fa il coso l'item per gli stack oh merda e mi è preso proprio quello grande adrox ha presa la torre io lo so che ho preso la torre comunque galio perché fa quel danno devo venire qua galio più si fa magic rest cacchio evelyn ovunque evelyn ovunque ma non ho le scarpe però sotto due bellite oh cazzo guarda che salte ma no no ma l'ho attaccato un'altra volta perchè non è morto il drago oh 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 la ulti qua una ulti qua una ulti qua una ulti qua una ulti qua ffff non muori ulti qua l'altra ulti l'altra ulti non ce l'ho eh mi è tornato eh no troppo troppo ultimo ultalo no ma Alec è fina fatto ha lasciato vado che palle che bello bene vado ancora qui dai ken inizio a fartelo no no se ho tutti qua eh ma cosa fai in lì allora se sai che era morto cioè anche l'intuito ecco quello ha flashato ah sono mortissimi eh si ma perchè sei andato contro di noi se sapevi che era mid cioè non ha senso tutto ciò eh mo se lo fanno pure perchè c'era la faccia che mi stava seguendo quello ha flashato e mo? ahahah l'hanno resettato nooo nooo vedete andare a casa no eh ma come famo eh ma come famo perda ho fatto il fatto con Atros tanto fa no prima era con Mieff nooo di pochissimo non l'ho ucciso e quindi c'è un range ma ma ci ucciderai i pelini in solo che bello ero 3-0 po perchè sono muto bo eh vabbè dobbiamo cercarlo deprendersi dobbiamo provarci ma Alec è proprio morto l'ho fatto che bello ti faccio statico phantom dancer boh io sto facendo statico io sto facendo statico tu hai fatto quello più grande giusto? si a me servono quello più grande era 0-0-3 era 0-3-0 eh raga ma sa io ci ho provato prima a killarlo sta pure a farmà c'era la metà dei miei vini vabbè però mi servono pure i piccoli eh ah ok danno exp e gold comunque se ci schifasse vabbè finalmente c'ho le scarpe amici comunque khalista sta diventando un problema chi te l'ha detto? lo danno ah ok io non ho nemmeno i cosi lupi tipo testa di cazzo è morto in salto questo ma si perchè danni li metto io per cui 1-1 1-1 1-1 me lo sciolgo questo e si arriva eccola ah è tutto cos'è una fusione o no? eh io vado a prender red guarda con cosa hai scappato evi non ho l'ultimo 21-1 2-1 1-1 2-1 guardami come mi farete oh che cozzo ogni volta pam 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 ma dopo qualche piccolo problema iniziale, speravo che si conosciessi sta andando piuttosto bene va bene in 4 ragazzi, non mi dice niente qua che dovremmo dire, ormai quale non esistono più sono da tutti dappertutto dove iniziamo a fare io faccio una trinity la trinity ci va bene Alec? eccolo ce la fai? sai qual è? riavvio automatico del computer fa aggiornamenti ho riavviato tutto ho riavviato tutto vabbè tanto stiamo reagendo discretamente occhio occhio abbiamo perso un altro drago eh però io tutto sommato vengo a tolto ah sono pure morto eh certo ne hanno approfittato maledetti ma eppure mi ricordo stato tipo sotto d'ore quasi sotto d'ore lì quanto ha farmato cario? 99 ammazza c'è anche poi c'è il farm mio stiamo andando a... che è eveline assento? eveline è qua ah beh la tour è crollata bene poca puntata ragazzi dobbiamo fare un shutdown un secondo shutdown con la trotta dei carichi eh mo ci proveremo fa troppo male dobbiamo stomparla ora ok allora no no merda dai sta sempre lì cioè io entro nel bacio e ci sta lei l'ho fatto apposta perchè prenditi una pink no l'ho fatto apposta perchè rifk oh ho logato un alti no ma la pink ce l'avevo ce l'avevo ce l'avevo messa il drago tra un minuto mi metti vicino a ward vicino così ma però c'è motriva infidato pure qui e porco cane eccola qua mi metti qua spero di andare butta occhio mio galio 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 la galietto dai vabbè buono così comunque è quella che è morta male eh io mi tengo lo smite per il coso oh merda comunque evelyn alla fine è riuscita a farla work out guardatevo evelyn giugla eh vabbè ma già subito per il finer ragazzo non mettete una ward mi devo andare a me shotta a me ma ne vuoi mettete una ward sennò io non posso sottare oh oh scusa ora devo mettere il bip me devo ricordare sei un idiota ventitra e cinquanta dai guarda com'è scappato che ali ah bella cuba ha tirato quattro secondi al drago madonna che danni che fa comunque quel gatto ma cosa madonna ma che è quel danno eh full ap proprio ap 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 nooo madonna ragazzi ma devo andare a caso ma che danni che hanno due draghi tre tre draghi come fai sono neanche l'ultimo merda dirai lì in uccello tutte la pink US 노� Natalie non riesco a mancanale ammettere non ce la farei mai a prenderlo 30 secondi purtroppo se lo prendevi di WV ti stimavo tutta la vita una volta no, l'ho stillato di WV di Lucian che non leva niente stai attenti stai attenti niente raga, dobbiamo trovare una tecnica per vincere questa partita la vedo male se no noi abbiamo una front lane ah dici? guarda Masorone quante OP alla membra ragazzi non ho parole quel champion fa proprio schifo che quanto è OP ma non è la prima volta che lo uso ma fa schifo come champion proprio è lezzo su di ciò più che altro mandargli un OP non è proprio una cosa una scelta pulata cosa? io sto botta ragazzi attenti dai io rubo un po' di farming min che pane mi importo c'ho l'ultimo aspetta aspetta prendono forse snake oh shit odio io no hanno messo un'occhietto qua non so niente veni da sola non me la faccio troppo forte rimane con due di vita sta non può stare dal red eh fattolo due il red se vuoi no ha detto si non può stare dal red il problema è che noi non abbiamo nessun tipo di tank e qual'è il problema? che ci vuole e lo sapevo e lo sapevo chi c'eravate voi dove è l'altra? è andata in ulti via ma c'è quel porco no mid ma la pushiamo mi faccio la swisper e poi ne riparliamo oh no gaglio c'è la toarmail nooo ma possiamo combattere la toarmail di gaglio? la swisper fatevi la torre e andate via namosen namosen si si ho visto qualcuno qua tipo occhi occhi e mijo vado a farmi il blu io ricordo vado a farmi la blade cioè la blood non si arriva via merda raga sono qua sto arrivando sto arrivando mi hanno smetato sono mortissimo eh non posso facci niente flash e ulti per me ok namosen 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 70 ma c'è mazarone là mazarone scappa tu vai stavo combattendo contro evelyn ah sei morto non hai detto se usa il saltino non ha il saltino per ah no non è quello eh vabbè oh madonna perchè ti ascolto ken perchè ti ascolto ken se usa il saltino è vero non mi hai fatto finire la frase stati se usa il saltino da umano io ti do anche ret no ragazzi devi far finire la frase sappiate che la carico anche se perdiamo perchè stiamo perdendo con onore forse peccato che la bot lane e il mid lane si fanno il ciò soffia la me uuuuh che liscio goal che bot lane mi spiega cosa avete fatto visto che aveva linea da sempre top o mid qualche volta è andata anche mid conciuda io vado in bot raga mai prendersela con qualcosa di piccattivo oh io ho 36 stack eh forse lo drago lo dobbiamo prendere assolutamente altrimenti ci proviamo ah ma pure evelyn si è fatta la dorma il kipo ecco arriva che shotta tutto raga dobbiamo fare soltanto la swiss per tutti c'è vabbè a parte varse e parte io che fa una cesare abato vabbè 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 sto facendo giorgia cazzo sto facendo giorgia cazzo lo ultata cazzo è scappata ma evelyn shotta comunque me shotta me shotta male vuolta che compari mi muo mi muo ma da fa bar stano salendo raga ma ogi puolò atrox di me Ma è comunque scarso Madonna, io flashevo dentro la base ma non ho fatto niente Eh, sei morto, che vuoi fare? Non l'hai presa? No Perchè? Com'è successo? Morto prima Che merda Ciao Alec No, non è possibile No, ma sarò, ma sarò, ma sarò sei cazzo Uno posso farmlo, l'altro no Sono quasi creduto Eeeh Urtala 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 Uuuuuh Oh drago E' l'unica occasione che abbiamo per faccio sto drago raga Eh ci sta andando misforto secondo me Eh ha capito Eeeh Oh mio dio sto andando a fare misforto Intercettate Eeeh Ken vieni Oh shit non ci arrivo Eeeh Eeeh Oh madonna Bah Atrox non fa nulla Per quello che dice pure Atrox Perchè Atrox è stato buono E non fa più nulla Bella zonia, davanti moris Eh c'è ma... madonna che danno ce stanno a fa' Ma che sto... Questi sono ignorantissimi Ma che è? Eeeh Del Cassano che li sta guidando verso la vittoria Ah minchia mi sono ucciso dei Tormail praticamente Io ho quasi un Last Whisper raga Che l'ho fatto? Eh si ma me la faccio pure la Tormail Che ci fai? Non lo so Vabbè in effetti volendo si può fare visto che ci sta... Cosa? Evelynn, Miss Fortune, Atrox e Kalista Cioè... Alla fine potremmo farla anche noi Perirei un po' più di vita però... Vabbè Mi serve assolutamente però il Last Whisper a tutti Sì Io l'ho fatto Tu l'hai fatta Masa? No ancora l'ho fatta e Last Whisper Fred O lo vuoi tu? No vialo vialo Stanno a faruta Ah ok se vuoi Kalista è quel cazzatissima Do... ah top Sono un po' tutti qui Vanno al Baron Mi sa che vanno al Baron Che pusha top Batto 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 A me ammazzano i golem L'ho detto tutto Ma pusha batto Raga ci vengono a FIA in 5 Siamo verso il bot E che ci vanno A me pushate Vai pushate Pushate a sto punto Continuate Continuate Dai veloci Veloci Dai No andate sull'inibitore Buttate dentro Kalista Vaffanculo Vedete che c'è Kalio dietro? Vi spostate un po' Ora Kalista Cacchio E Kalio è quello che scioglie Aha Vabbè abbiamo preso l'inibitore E Kalista Un alleato Un alleato Buono No raga Non glielo fate via Non glielo fate via Vai Maseru Vai Maseru Vai Maseru I mini I mini I mini I mini I mini puliti i mini Niente Vabbè ci puoi provare Vabbè ci puoi provare Vai raga possiamo ancora vincere se continuiamo così Voglio Se riuscimo a piar baron Se riuscimo a piar baron C'è qualche possibilità Baron e un drago Raga il prossimo drago è decisivo Cioè se perdiamo il prossimo drago Ho perso Avevo perso del tutto Prendete la mid raga Sai quanto c'è l'ulti asce? Ma chi è dei nostri che si può tankare un baron? Ehm Forse è Maseru Se si fa un mallet Ehm Mi devo fare il frozen ar Il sussurro fatale Ehm La blood Ehm Frozen mallet E poi mi devo fare qualcos'altro No poi basta grazie Ehm Cosa ha pulito tutto? Raga dobbiamo gruppare e fai dalli Ehm Io ho paura perchè prima c'era Ehm Aia ma peccato che ha visto Qui c'ho l'ulti Scevando amici Scevando Scevando Però dovremmo fai da un'altra parte Non in mid In mid c'è via super mini Siamo in bot Andiamo in bot Oh Eccola Evan Scevando 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 No raga posso ancora difendere no? Sì Non devi farli diventare shaky e spalla la Q No non puoi E no Tanto Aha Ok Ora Ehm 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 Comunque degli oggetti OP Ehm Ehm Dove andare back Scevando La uccidete? Ehm Se è da solo se io Pfff Cazzo che cazzo pensi di fare? Può c'è Kalista con la tua vita Basta push Dovè? Scevando a Kalista? Scevando la bottelema Baron veramente Oh mio Dio come lag Oh mio Dio come lag Ragazzi pushiamo Ragazzi tra cinquati secondi c'è sta pure il Poi li vedete anche tu Ash vai Ehm Non ce la fanno in due Allora Non ho tempo poveri Grazie Momento di lag estremo Vabbè Non ce la faremo nemmeno in tre No vabbè Lasciatelo 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 Oddio lo stiamo shuttato però Ragazzi Non l'ho detto Problema Che cazzo? Dove sta l'altra? Eccola Eeeh C'è cosa Vado top raga Merda Non sbagliate lo c'è Vado a questo però scioglie eh raga E' incredibile E' il baron ragazzi E' il baron ragazzi E' un... Vado a recuperare un po' di vita e a farmela tormenta Sono top io No il ba... il drago raga Ma non l'urdi purtroppo Ma ma intanto No Fere Vado io vado io vado io Vado io vado io Che sono... che avete il baron Vado Eh però... E' rischioso Devo dire Molto rischioso Che fai? Non so se continuo a pusha' Io sto andando a comprare qualcosa Che faccio? Altro danno? O faccio... Intanto comunque se squish Quindi va a guardare Eh perfetto Io così così vi faccio la... Quella che dà più vita Oh cazzo raga 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 Ma preso Ma presissimo Reo 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 Torno subito sto andando... Va morto Vaffanculo l'ho urtato L'ho urtato l'ho urtato Grazie amici Sto tornare sto tornare Anzi vado mid a difendere Oh son morto in tre ragazzi Dovremmo fare qualcosa Eh dobbiamo pusha' Sì Dove pusha' Due pusha' ne due difende Tre pusha' ne due difende' no? Tanto io posso... Io tanto posso tornare col... Col teleport Io c'ho ancora il baron Quelli push Madonna raga che cazzo di game Mamma mia dio io sto a farire Ne ho perso di guerra Eccolo Mi si ritroppo Ma io mi devo mangiare A Drox dietro E' dobbio prendere almeno sinibida Ok Beh Ti dà raga Non ce la faremo mai Che la fai' chiamo Guarda me la f**ta roba in una ferma io Vai via eh Eh io non ce l'avrei mai fatto Guarda Eh ciao Lì dovevi allaventarla eh Eh la hai decolcio amico Usata via di asuato Niente l'avevo perso raga l'avevo perso Non lo so prova a tirargli qualcosa in testa C'hai i super minion c'hai le torri Devi resistere 40 secondi COSAAA Ma scusatemi l'altro È morto in bot Ma porca ma mi avevano detto di difendere Non ho più il Baron Non ho più il Baron Amici non ho più il Baron Ciccia C'hai Evel indietro pure Eccola Che tab ignorante T'hanno fatto Sai che forse Rinasce anche il terzo di Bittery Eh ma Devono rinasciutti e tre Per vincere Eh vabbè dai È stato bello lo stesso Eh vabbè GG Vabbè comunque ragazzi Sperando che il video vi sia piaciuto Alla fine è stato abbastanza divertente Visto ci hanno trollato Piccando C5 di Carry Vi ricordo di andare a visitare il canale di Masarone Di Alec in descrizione E al prossimo video Ciao 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 Grazie per la visione!